Credo che questa sia una delle bici elettriche più belle come layout tra tutte quelle che ho recensito fino ad oggi perché con questa Evercross e K30 sicuramente non passerete in osservato ci credete che mentre giravo con questa bici elettrica tante persone l'hanno scambiata per una moto al telaio a traliccio le ruote maggiorate e tante altre caratteristiche veramente rare come sempre in tutte le recensioni delle biciclette anche oggi questo video l'ho diviso in tre parti nella prima parte vi mostrerò l'intero tutorial passo passo per montare questo bolide così se per caso alla fine del video la deciderete di acquistare invece di guardare le istruzioni vi basterà seguire il mio video nella seconda parte andremo analizzare le specifiche tecniche e nella terza e ultima parte vi svelerò il prezzo e le mie considerazioni finali queste sono le condizioni in cui arriverà a casa la bellissima Evercross iK30 dovrete montare la ruota anteriore tutti i parafanghi che ce ne sono tre in totale i pedali come vi dicevo prima il faro led e mi voglio anche soffermare guardate quanto è grande sembra proprio simile a quelle moto degli anni 70 80 voglio fare anche una menzione speciale per gli accessori perché oltre tutto il kitame per montarla hanno inserito anche la pompa per gonfiare le gomme e un comodissimo lucchetto numerico concludo dicendovi che nella dotazione ovviamente troverete il manuale di installazione e come vedete dalla telecamera è anche presente la lingua italiana per cui non avrete nessuna incomprensione durante il montaggio anche perché vi basterà guardare il mio video e concludo l'unboxing con l'alimentatore che arriverà a casa all'interno di una confezione quindi è ben protetto munito di cavo di ricarica e come vedete è dotato di spina italiana per cui non dovrete neanche acquistare l'adattatore e ora partiamo col montaggio come prima cosa dobbiamo agganciare il led a queste due forcelle e per fare ciò vi basterà agganciare questa staffa con il fermo per poi andarlo ad avvitare con la vite con una mano tenete ferma la testa altrimenti vi scivola indietro e con l'altra andate ad avvitare mi raccomando stringete bene perché il led non si deve muovere e ora non vi rimane che posizionare correttamente il led parallelo ovviamente all'asfalto per poi andarlo a fermare avvitando le due brugole laterali e come ultimo passaggio non ci rimane che andare a collegare i due cavi mi raccomando spingete correttamente facendo combaciare i due slot e la parte del led anteriore è completata e ora è il momento di andare a collegare il manubrio al porta manubrio come primo passaggio dovete svitare questi tappini che sono presenti sopra le brugole una volta che li avrete svitati tutte e quattro andate a staccare questo fermo e una volta che avrete posizionato il manubrio andate a risistemare il fermo per poi andarlo a riavitare con le quattro viti non fate l'errore di evitare tutte e due quelle di uno stesso lato perché altrimenti la parte posteriore si alzerà e farete molta ma molta più fatica ad evitare le due rimanenti e una volta che avrete stretto tutte le viti andate a rimetterci i tappini e ora è il momento di montare la ruota anteriore come prima cosa dovete rimuovere il dado per poi andare a tirare via il fermo che andrà inserito esattamente in questa posizione ripetiamo il procedimento nel lato destro come prima cosa andiamo a inserire il fermo in questo buchettino mettiamo la rondella per poi andare ad avvitare il tutto col nostro bullone mi raccomando stringete bene con la chiave in dotazione ed ecco fatto anche la ruota anteriore è stata completata e ora è il turno dei pedali partiamo con il pedale di destra all'inizio partite ad avvitarlo a mano e quando diventerà un po duro concludete il serraggio con la chiave data in dotazione e ripetete lo stesso procedimento con l'altro pedale e ora come ultimo passaggio non ci rimane che montare i tre parafanghi sono veramente molto particolari e robusti perché sono in metallo partiamo da quello frontale che va posizionato sopra la ruota anteriore come prima cosa dovete svitare questi due viti presenti nella forcella fare combaciare questi due buchi per poi andarlo a riavitare e ora andiamo a svitare le due viti per mettere l'altro parafango il procedimento è praticamente lo stesso andate a posizionare i due fori del parafango vicino agli altri fori che avete visto prima per poi inserire le due vite per poi andare a avvitare il dado dall'altra parte siamo arrivati all'ultimo pezzo montiamo anche questo parafango e finalmente abbiamo finito il montaggio per darvi un'indicazione sui tempi di montaggio per montarla completamente vi occorreranno all'incirca 20 25 minuti 3 2 1 e questo è il risultato finale devo dire che mi sono innamorato di questo telaio a traliccio che è veramente tanta roba e ricorda un po i tralicci delle vecchie ducati e ora andiamo analizzare nel dettaglio questa bellissima ever cross e k 30 a partire dai freni anteriori che come vedete sono dei freni a disco autoventilanti da 160 mm stesso disco anche al posteriore e dietro al freno troviamo il motore brushless a 250 watt per quanto riguarda il cambio ha un classico cambio shimano a 7 rapporti che si attiva dal manubrio con la leva superiore si abbassa la marcia invece con questo pulsantino si va ad alzare veramente perfetto in ogni singola cambiata per quanto riguarda l'autonomia con questa bellissima bike riuscirete a fare 70 80 km prima di doverla ricaricare la batteria tra l'altro è removibile vi basterà con le chiavi sbloccare il gancio di sicurezza che impedisce alla batteria di staccarsi durante il moto e rimuoverla dal telaio così la potrete ricaricare direttamente nella vostra abitazione per quanto riguarda la comodità qua siamo veramente da top di gamma perché come vedete ha le sospensioni sia al posteriore e guardate che paio di sospensioni ma ce l'ha anche l'anteriore per cui sarete veramente comodi in qualsiasi condizione di guida sia sterrato fuori pista per non parlare del classico asfalto menzione speciale per questo sellino è veramente morbidissimo per cui già da solo riesce a ammortizzare qualsiasi buca ed essendo così lungo potrete anche caricare due persone e la persona che caricherete sarà comoda al 100% è il led più grande che abbia mai recensito sulle biciclette fa veramente tantissima luce di notte per cui sarete sicuri al 100% per girare anche le ore notturne e beccatevi anche i freni posteriori guardate che led potente perché si attivano come in una moto o in una macchina per cui per quanto riguarda la sicurezza più di così non potevano veramente fare e ora arriviamo un altro suo punto di forza ossia queste potentissime gomme sono veramente aggressivissime super tassellate per quanto riguarda le dimensioni abbiamo un diametro di 20 pollici per una spalla di 4 pollici e ovviamente come potete vedere anche voi sono all mountain possono essere utilizzate sia sull'asfalto ovviamente sulla ghiaia il fuori pista e anche sulla neve e questi larghissimi doppi parafanghi presenti sia l'anteriore che il posteriore vi proteggono tantissimo dall'acqua o dal fango se la utilizzerete in fuori pista e per quanto riguarda il peso questo bollite pesa esattamente 39 kg per quanto riguarda il materiale dei tubolari è formato da una lega di acciaio e carbonio e ora chiudiamo col manubrio dove troverete il campanello meccanico sentite qua c'è il tasso d'accensione il tasto m le due freccette servono a regolare la velocità della bicicletta con la freccia rivolta in alto aumenterete la pedalata assistita a 1 2 e 3 e con quella rivolta in basso tornerete a 0 in cui la bicicletta andrà solamente a pedalata ma non è tutto perché se guardate qua sotto c'è una super sorpresa e adesso ve la svelo perché hanno incastonato una bellissima porta usb per cui se per caso andate in giro col cellulare come navigatore potrete ricaricarlo direttamente con le bike e schiacciando sempre il tasto m potete andare a controllare altri parametri come la distanza del giro singolo e il tempo del vostro giro e infine come promesso vi svelo il prezzo di questo bellissimo bolide viene venduta dal sito ufficiale a 1500 euro ma attualmente hanno attivato un super sconto e la riuscirete ad acquistare a solo 899 che per le sue caratteristiche è veramente uno sconto bomba se per caso siete interessati vi lasciate il link diretto dell'offerta nel primo commento e nella descrizione di questo video e per quanto riguarda le mie considerazioni finali consiglio questa bellissima bici elettrica a chi vuole una bicicletta un po fuori dagli schemi a chi desidera essere sempre osservato nelle ciclabili perché con questa evercross e k30 sicuramente non passerete inosservato un altro motivo perché la consiglio è la comodità sia il sellino e le doppie sospensioni vi faranno stare comodi in qualsiasi situazione e concludo le mie considerazioni con altre tre caratteristiche da non sottovalutare a partire che questa bicicletta elettrica nonostante l'aspetto esteriore è completamente legale sia in italia che in europa perché il motore di 250 watt rispetta pienamente le normative e anche la velocità massima di 25 km orari è perfettamente idonea alla circolazione su strada vi divertirete in qualsiasi situazione anche nelle salite più difficili perché riesce a salire anche le salite del 25 per cento senza troppa fatica e se la utilizzerete nelle ore notturne con questo super led regolabile e quello posteriore non avrete nessun problema per quanto riguarda la sicurezza per cui faccio veramente fatica a trovare dei difetti in queste bari se vi è piaciuta questa recensione mi raccomando lasciate un bel like e iscriviti al canale e come sempre ci vediamo al prossimo video ciao